Gim, eccola la nostra RLS Legacy! Non è grandiosa? Navigheremo dove nessuno ha navigato prima! Beh, nessuno, tranne il Capitano Flint. E il suo primo ufficiale, certo. E la sua ciurma di pirati al completo. Insomma, un bel po' di gente, in verità. Allora, mozzo, c'è una prova di iniziazione per le reclute di questa ciurma. Pensi di farcela? Sono pronto a tutto, spaccone dei miei stivali! Tres, due, uno... Oltre, due, uno... Mio, tres, due. Nelio, tres, due. Mio, tres, due. Mio, tres, due. Grazie a tutti. 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 Proprio... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Proprio... 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 Ok... 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 3... E... 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 Molto bene... Salve... Giovanotto... Sono il responsabile... Montacarico... per i ponti... E... 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 Jim... E... 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 Ah... E... 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 E...